Terza sconfitta consecutiva per il Faella che arriva la prima in panchina di Mr. Scartabelli, un ritorno per lui dopo la cavalcata dello scorso anno, la vittoria del campionato di terza categoria e della Coppa Chimera. Mr. Scartabelli chiamato per rivitalizzare una formazione che nelle ultime gare non aveva ottenuto granché a livello di punti, sicuramente un esordio non fortunato anche perché vedremo che il Faella già al sedicesimo minuto del primo tempo rimane in dieci uomini e dunque dovrà giocare per 80 minuti considerando il recupero in inferiorità numerica. Una gara che appunto inizia subito in salita perché il San Clemente avversario d'Erno in un derby importante è determinato e al nono minuto gli ospiti colpiscono la traversa con Nuti, un bel tiro ad incrociare che appunto colpisce la parte superiore della trasversale. Reagisce il Faella al dodicesimo ma la girata di Bencivenni è alta e al sedicesimo l'episodio che condizionerà la gara mani in area di Fiacchini. C'è l'espulsione ed il calcio di rigore a favore del San Clemente si presenta ogni bene sul dischetto ma Dallatorre è bravissimo a parare, a mettere poi in calcio d'angolo. Il San Clemente però sull'onda del vantaggio numerico si fa sempre più determinato al 25esimo sfrutta un errore difensivo del Faella e Nuti che si inserisce e tocca alle spalle di Dallatorre il gol del vantaggio. La rete del vantaggio dura però poco perché al 31esimo Bencivenni viene trattenuto in area del San Clemente e calcio di rigore che lo stesso Bencivenni trasforma per il gol del pareggio. 36esimo minuto Colmi per il San Clemente colpisce ancora una volta la traversa a portiere battuto e al 40esimo cross di Solari c'è una deviazione la palla che arriva assisti forse potrebbe controllare il numero 11 invece prova a tirare al volo ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. Si passa nel secondo tempo e dopo 30 secondi dal fischio d'inizio gran tiro ad incrociare di Bencivenni palo pieno del capitano del Faella poi sul pallone si avventa Petri ma la sua conclusione è ribattuta. Al quarto minuto ancora Bencivenni ci prova su punizione ma la sfera termina fuori di poco. Al 25esimo è splendida l'azione personale di Solari che ci prova con un gran destro a girare. Palla che si stampa sulla traversa e torna in campo con Fiacchini che non riesce ad approfittarne. Al 40esimo però la doccia fredda sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla che arriva nell'area piccola un batti e ribatti con Nuti che ne approfitta e riesce a mettere il pallone alle spalle di Dallatorre. E' il gol che sarà decisivo anche se il Faella protesta perché al 46esimo riesce a trovare il pareggio con Bencivenni ma l'arbitro annulla per fallo del capitano e attaccante azzurro. E al 48esimo ancora una protesta Bencivenni cerca di entrare in area. A suo avviso c'è un fallo di mano ma il signor Giulio Controzzi di Pisa dice che è tutto regolare e su questa azione termina la gara San Clemente 2, Faella 1.